benvenuti all'incontro di questa sera questa sera come avete visto ci dedichiamo alla prima parte di spettacoli che hanno come soggetto diciamo nerone ma in realtà vedremo che oggi nerone non è forse il protagonista quanto diciamo le figure femminili che nella storia lo hanno in qualche modo diciamo incontrato e da grippina che appunto la madre a poppea e quindi lo vedremo diciamo non in primissimo piano almeno in una delle opere sicuramente ha un ruolo secondario mentre lo vedremo poi più protagonista nel prossimo incontro che ci farà vedere un nerone diverso insomma completamente diverso anche perché i lavori che esaminiamo oggi che sono appunto l'opera grippina di georg friedrich heindel e l'incoronazione di poppea di claudio monteverdi sono due composizioni diciamo scritte tra la seconda metà del seicento e i primi anni del settecento mentre le prossime sono composizioni già tra il 1800 e il 1900 quindi cambia completamente proprio la l'aspetto e la presentazione della figura di nerone quello di oggi come vedete dal titolo nerone tra complotti e passione perché di fatto nerone viene in queste opere in qualche modo è come dire quasi soggiogato da queste figure femminili di agrippina e di poppea che in qualche modo lo se vogliamo anche pilotano un po le sue azioni le sue decisioni e quant'altro appare come una figura insomma in qualche modo poco decisionista anche se devo dire nell'opera di monteverdi insomma uno scontro a uno spessore un pochettino più più forte rispetto all'opera di endel e vedremo appunto che nerone prenderà una posizione molto forte nella sua intenzione di ripudiare ottavia appunto e di sposare poppea confrontandosi anche in modo aspro e forte con il filosofo Seneca che è presente anche nell'opera insomma io so che la collega Besso vi ha già un po accennato a queste figure femminili nella storia adesso andiamo a vedere un po come la storia viene diciamo interpretata nel mondo dell'opera siamo nel pieno dell'opera barocca quindi siamo nella stessa epoca è anzi un po precedente se vogliamo del Giulio Cesare di Endel che avevamo visto la volta scorsa eh l'autore lo stesso ma effettivamente le caratteristiche sono un pochettino diverse anche perché il Giulio Cesare di Endel era stata una un'opera che era stata composta per la città di Londra quindi in un certo tipo di contesto culturale eh europeo che avevamo individuato la volta scorsa nel caso della Grippina invece che un'opera precedente eh è un'opera più giovanile di di Endel che risale invece al suo periodo italiano quindi il contesto anche in cui nasce è completamente diverso e condiziona sicuramente anche le scelte musicali e testuali da parte del libretto dunque eh andiamo eh procediamo cronologicamente perché naturalmente eh ha più senso farlo dal punto di vista storico anche se dal punto di vista eh del raffronto con la storia reale eh queste due opere andrebbero invertite perché eh naturalmente ehm l'incoronazione di Poppea eh dal punto di vista cronologico viene dopo appunto quello che succede invece nella Grippina di Endel no? Quindi ma voi la storia la conoscete eh quella reale quindi vi saprete comunque orientare. Io preferisco mantenere l'ordine cronologico musicale diciamo così per una questione di legami anche che ci sono effettivamente tra le due opere eh eh tra perché tutto sommato ci sono vedrete che ci sono anche dei legami proprio tra l'opera di Monteverdi e l'opera di Endel eh che affrontano non lo stesso argomento ma comunque gli stessi personaggi. Claudio Monteverdi ehm se qualcuno ha seguito gli incontri passati eh su Orfeo eh magari si ricorderà qualcosa in ad ogni modo Claudio Monteverdi era fu un compositore che eh è tra i primi autori dell'opera del melodramma aveva scritto anche molti madrigali disse ed operò sostanzialmente in due città tra Mantova e Venezia appunto. A Mantova faceva il maestro di cappella verso la corte dei Gonzaga e aveva scritto appunto uno dei primissimi melodrammi della storia l'Orfeo nel 1607 eh eh seguito poi da un'altra opera praticamente perduta che è l'Arianna nel 1608 eh successivamente dal 1613 eh si era trasferito a Venezia eh presso la Basilica di San Marco e se vi ricordate il discorso che ho fatto eh all'inizio della lezione precedente e vi avevo detto che appunto l'opera a Venezia è un'opera di tipo pubblico eh vi ricordate avevo detto che appunto l'opera veneziana a differenza delle altre opere degli altri melodrammi rappresentati in Italia eh e un prevede appunto un teatro pubblico dove si paga il biglietto e quindi proprio a Venezia si sviluppa l'argomento storico eh questo era quello che avevamo detto la volta scorsa ecco l'incoronazione di Poppea eh 1643 è proprio il primo melodramma della storia che si conosce di argomento storico quindi prima del di questo lavoro eh sostanzialmente non abbiamo opere che attingono alla storia per i loro soggetti il primo è proprio questo di Claudio Monteverdi che è anche l'ultimo suo lavoro teatrale quindi lui ormai è a fine carriera a 75 anni Monteverdi tant'è che eh questa questo lavoro ehm ha anche avuto tutto un dibattito sulla effettiva paternità dell'opera da parte di Monteverdi stesso perché ci sono delle parti che sicuramente non ha scritto lui eh e quindi è probabile che il compositore già piuttosto anziano eh si è ricorso anche all'aiuto di alcuni allievi più giovani oltretutto esistono due versioni diverse di quest'opera una veneziana una appunto con una rappresentazione successiva e quindi eh ci sono delle diversità ad ogni modo gran parte delle musiche sono comunque state attribuite poi ehm a Claudio Monteverdi eh venne data per la prima volta durante la stagione di Carnevale nel 1643 a Venezia nel teatro dei Santi Giovanni e Paolo che era un teatro che oggi non esiste più e che sorgeva vicino alla omonima e famosa chiesa ehm questo teatro era un teatro di proprietà di una famiglia molto importante la famiglia Grimani ed era considerato il più prestigioso della città voi dovete capire che in questa epoca nel 1643 eh vi avevo detto l'altra volta che il primo teatro pubblico viene inaugurato nel 1637 quindi siamo pochi anni dopo dal 37 agli anni 40 eh si intravede come dire il business del teatro no? Eh e quindi fioriscono queste sale teatrali che vengono gestite dagli impresari eh e si fanno una grande concorrenza una concorrenza spietata l'uno con l'altro perché vogliono accaparrarsi ovviamente il pubblico pagante e questo è appunto un teatro che viene inaugurato appunto solo due anni dopo l'altro 1639 ed è considerato da subito uno dei più prestigiosi eh dove andare a rappresentare le opere. Il libretto di questo lavoro è stato scritto da eh Giovanni Francesco Busenello eh che è l'autore appunto del del libretto. Ehm questo soggetto appunto che vede eh protagonista se vogliamo la la figura di Poppea eh e in parte anche quella di Nerone eh si basa su eh appunto dicevo dei fatti storici ben documentati in particolare la fonte più importante sono alcuni passi degli annali di Tacito eh integrati però da Svetonio e Cassiodione e su una tragedia Octavia che un tempo era stata attribuita a Seneca e che eh che viene abbastanza seguita seguita abbastanza fedelmente almeno in alcune scene del dell'opera eh eh ci sono anche all'interno del libretto dei temi che invece sono più eh recenti diciamo non si ispirano a questi eh volumi degli storici antichi ma dei romanzi contemporanei dell'epoca eh tra cui uno eh intitolato l'imperatrice ambiziosa di Federico Malipiero che parla proprio delle vicende di Agrippina e sostanzialmente anche della seduzione eh di Nerone da parte di Poppea quindi diciamo questo libretto attinge a più fonti quelle storiche documentate da Tacito e anche dei romanzi un romanzo in particolare che invece è contemporaneo eh sei centesco quindi ehm diciamo che in qualche modo la vicenda storica in questo contesto viene sfruttata eh dall'autore del libretto soprattutto anche come eh diciamo eh con un fine vagamente politico ecco se vogliamo nel senso che ehm sostanzialmente questo libretto sotto sotto nasconde una denuncia eh e un sentimento diciamo di tipo antimonarchico eh che denuncia appunto la corruzione l'ambiguità morale del dell'aristocrazia a favore invece della gloria della Repubblica Veneziana Patria della Libertà questo è un po' quello che è sotteso a tutta questa vicenda perché in effetti gli personaggi che ci vengono rappresentati in questa opera e proposti sono personaggi insomma non propriamente come dire puri sul piano morale eh non se ne salva quasi nessuno praticamente eh tutti vogliono ottenere degli scopi ben precisi e per ottenerli sono disposti tranquillamente diciamo a violare eh senza troppi problemi le regole della della moralità quindi la storia viene in qualche modo eh viene posta sotto questo profilo no sotto l'aspetto delle delle passioni eh e delle diciamo tutto viene giocato in base alle proprie pulsioni alle passioni e desideri e eh non si bada diciamo così a questo nel fare eh diciamo parsimonia di inganni di sotterfugi di ricatti e quant'altro insomma tutto quello che eh di più vieco può offrire la società umana eh è presente in quest'opera ehm l'opera ottenne un grande successo ehm nonostante l'argomento anche se vogliamo un po' scabroso eh per l'epoca eh ma siamo comunque nella Venezia insomma di di metà seicento eh quindi comunque ci può stare tra gli interpreti della prima rappresentazione anche qui un cast di grandissimo valore ehm che ehm tra l'altro vedete appunto nella slide no eh la la una delle due protagoniste perché abbiamo due protagoniste femminili sostanzialmente che lottano per l'amore di di Nerone no abbiamo Ottavia che è la moglie epopea che è quella che diventerà poi la moglie. Queste due cantanti erano due cantanti molto in voga all'epoca soprattutto Anna Renzi eh potete vedere nella slide un'immagine della cantante e vedete che addirittura sotto ha riportato il frontespizio di una pubblicazione che addirittura eh era a lei dedicata le glorie della signora Anna Renzi romana perché era una cantante di origine romana ehm quindi eh la lotta no eh tra le due donne per l'amore di Nerone in qualche modo viene riflessa anche dalla rivalità vocale tra le due protagonisti che in qualche modo hanno due parti molto compleste virtuosistiche sul piano musicale. La parte di Nerone eh come anche succederà per nel caso di Niente è una parte affidata alla voce di un castrato Stefano Costa eh questa cosa abbiamo già visto anche parlando di di Giulio Cesare l'altra volta era una cosa piuttosto frequente nell'opera seria che noi oggi può un pochettino disturbare no vedere il grande personaggio storico con una voce così acuta ma era nella 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 prassi dell'epoca. Allora vado perché non mi fa andare avanti? Si è bloccata la presentazione. Che succede? Non mi fa andare avanti? Scusate eh. Che succede? Scusate non andava più avanti lì. Vado avanti così. Allora l'argomento dell'opera eh vede appunto proprio questo momento della vita di Nerone in cui lui eh innamorato di Poppea eh lo manda manda appunto Ottone che suo marito in in Lusitania e sostanzialmente eh per fare in modo di poter avvicinare appunto Poppea ma ehm appunto Ottavia che eh appunto tutta questa questa vicenda ehm anche per come dire eh trova l'alleanza di Ottone eh che ovviamente è geloso di questa di questa storia tra Nerone e Poppea e ordina Ottavia che Ottone uccida Pompea eh Poppea scusate. Ottone quindi promette di farlo ma ehm nel piano sostanzialmente eh che ha messo in atto per uccidere Poppea ehm il piano prevede che lui si travesta eh con delle vesti femminili insomma con il vestito di di Drusilla che a sua volta è innamorata di lui quindi vedete c'è un intrigo di eh relazioni amorose non da poco eh anche difficile da districare quindi lui eh vestito da Drusilla eh entra nel giardino di Poppea eh per ucciderla ma eh questo omicidio non avviene perché eh eh Amore quindi Cupido eh lo disturba nell'atto dell'uccisione eh tra l'altro poco prima proprio Amore aveva cantato una bellissima area una delle più famose dell'opera che si chiama D'Agenti Poppea che è la classica area del sonno per fare addormentare Poppea. Poppea addormentata poi arriva appunto Ottone eh vestito da Drusilla per ucciderla e eh questo questo tentativo però viene sventato proprio da Amore eh a quel punto quando si scopre che il mandante di questo omicidio mal riuscito è proprio Ottavia Nerone approfitta di questa cosa per avere diciamo la la scusa giusta per ripudiarla eh ripudiarla nonostante il parere negativo del filosofo Seneca che anche qui viene messo in una luce assolutamente negativa eh il filosofo Seneca ci viene presentato quasi come una persona pedante che viene anche presa in giro da da alcuni valletti l'imperatore e che poi verrà appunto condannato alla morte sostanzialmente e a questo punto Nerone ripudiato Ottavi eliminato Seneca potrà finalmente convolare a nozze con eh Poppea eh e e e e questa è eh alla fine appunto il trionfo di Poppea che finalmente è riuscita a coronare questo questo desiderio. Scusate. Uno dei momenti musicali più interessanti di questo lavoro è sicuramente eh uno dei duetti eh 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 d'amore tra Poppea e Nerone. Eh Nerone qui lo vediamo proprio sempre durante questi duetti ce ne sono ben tre all'inizio dell'opera quello che vi ho messo qui sulle slide è l'ultimo ed è quello anche più famoso è un un duetto eh estremamente sensuale che riflette molto bene quella che eh diciamo eh il sentimento che governa tutta l'opera no? Questa queste passioni amorose che in qualche modo vengono eh portate avanti dai vari protagonisti eh a loro favore poi anche no? Dove gioca anche poi un certo interesse. Eh ve lo faccio sentire avete il testo proprio vicino vedete è molto ripetitivo sì ci sono delle parole che si ripetono molto molto spesso questo pur ti miro pur ti godo pur ti stringo pur tannodo eccetera eccetera eh ci sono anche appunto delle delle rime molto frequenti eh ecco quello che volevo quello su cui volevo porre la vostra attenzione è proprio lo stile musicale che sentirete che è ancora uno stile musicale diciamo più legato proprio alle origini del melodramma dove le parole sono molto ben comprensibili e dove il virtuosismo vocale non è ancora così spinto come lo sarà poi nelle opere del settecento come lo vedremo già solo nella grippina di Eindel successivamente eh quindi dal punto di vista strettamente musicale abbiamo ancora una grande attenzione per il rapporto musica parola e e sentirete molto bene eh sperando che l'ascolto sia decente insomma mi rendo conto che non è mai l'ottimale ehm come funziona ascoltiamo allora eh spero che tutto funzioni grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Ecco, spero si sia sentito abbastanza. E purtroppo gli dipende dalle connessioni di ognuno. No, mi rendo con... E i cosismi vocali, come avete potuto avere modo di sentire, non sono così, come dire, eccessivi come nelle opere del Settecento e ci permettono comunque una buona comprensione del testo che viene cantato. Andiamo a vedere appunto, questo è un altro ascolto che non vi faccio fare adesso, questo è un altro ascolto che non vi faccio fare adesso perché non abbiamo tempo e comunque vi lascerò poi comunque da fare se volete poi nella condivisione delle slide. E' un'altra scena che è un'altra scena che... tra la figura di Seneca e la figura di Nerone si accenda sempre di più tanto che Nerone poi si arrabbia a un certo punto e usa proprio uno stile fatto di note ribattute di agitazione che è proprio quello stile dell'ira che Monteverdi inventa già nel Madrigale che trasferisce nell'opera e che poi darà il modello della famosa aria d'ira come abbiamo sentito l'altra volta nel Giulio Cesare di Endel quindi sono degli stilemi proprio tipici dell'opera delle tipologie diarie che in qualche modo già Monteverdi aveva lanciato ecco nelle sue opere teatrali tra cui appunto questa passiamo a vedere invece adesso il Nerone in Endel nella grippina di Endel di Endel abbiamo già parlato in parte la volta scorsa qui anche qui rispetto alla volta scorsa dobbiamo fare un passo indietro dal punto di vista della biografia di Endel perché noi abbiamo visto l'Endel londinese la volta scorsa invece qui vediamo l'Endel italiano cioè l'Endel giovane che si trasferisce appunto in Italia nel 1706 dalla Germania dalla sua città natale e dove diventa in breve un compositore molto famoso per i melodrammi in particolare per due melodrammi uno rappresentato a Firenze che si intitola Rodrigo nel 1707 e poi proprio per questa opera che si intitola Agrippina rappresentata a Venezia quindi nella stessa città in cui era stata rappresentata un po' di anni prima l'incoronazione di Poppea di Monteverdi nel 1709 ma siamo nel 1709 Endel in Italia comporrà anche uno dei suoi primi oratori che si intitola la resurrezione questo lo comporrà a Roma perché Endel durante questi quattro anni trascorsi in Italia si trasferirà da Firenze a Venezia a Napoli a Roma soggiornerà insomma in tutte quelle che sono le città più importanti della musica barocca italiana per i vari generi dall'opera all'oratorio e quant'altro concentriamoci però sempre sulla città di Venezia Agrippina come vi dicevo anche qui viene programmata per la stagione del Carnevale ecco quello che forse può essere interessante dirvi è che a differenza della programmazione teatrale odierna attuale dove la stagione operistica dura praticamente gran parte dell'anno almeno durava perché adesso siamo in un periodo di totale stallo ma normalmente la stagione del Regio insomma si inaugurava tra settembre ottobre e fino a giugno luglio c'era ci sono spettacoli nell'epoca di cui stiamo parlando la stagione era molto più breve iniziava il giorno dopo Natale il 26 dicembre e terminava l'ultimo giorno di Carnevale il martedì Grasto quindi era una stagione piuttosto ridotta e il periodo di Carnevale era un periodo molto importante soprattutto a Venezia lo è ancora e quindi il fatto che Agrippina inaugurò proprio la stagione del Carnevale del 1709 ci dice già che Endel era considerato un compositore di tutto rispetto anche se tutto sommato da poco arrivato in Italia quest'opera venne rappresentata in un altro teatro di Venezia il San Giovanni Grisostomo e il libretto di quest'opera venne scritto da Cardinale Vincenzo Grimani che sostanzialmente aveva proprio era proprietario del teatro dove viene rappresentata l'opera la sua famiglia aveva due teatri quella il teatro che abbiamo visto prima di San Giovanni e Paolo e il teatro di San Giovanni Grisostomo questo teatro di San Giovanni Grisostomo esiste ancora anche se è stato completamente rimaneggiato nei secoli ed è l'attuale teatro Malibran esiste ancora mentre l'altro non esiste quello che vi ho citato prima non esiste più quindi in qualche modo c'è un legame che unisce un filo rosso che unisce l'opera di Monteverdi l'incoronazione di Poppea e Agrippina di Endel che è proprio questo legame con la famiglia Grimani che abbiamo visto il librettista appunto Grimani si ispira ovviamente alla storia di questa figura femminile che è appunto moglie dell'imperatore Claudio e madre di Nerone avuto da un precedente matrimonio Agrippina in quest'opera è la protagonista assoluta è la prima donna veramente cerca di convincere in tutti i modi Claudio il marito a nominare imperatore il figlio per fare questo in qualche modo si sfrutta proprio la figura di Poppea qui siamo nella storia precedente ovviamente Poppea in questo caso non è ancora appunto non diventa in questo caso la moglie di Nerone ma la quale appunto Poppea che è a sua volta innamorata di Ottone fa anche di piacere molto sia a Claudio sia a Nerone quindi Poppea diciamo ha una specie scusate il termine di menage a trois che lei anche sa gestire come meglio crede anche se lei ama Ottone ma tutto sommato non si sottrae anche dal civettare se vogliamo con Claudio e anche poi con Nerone Agrippina sostanzialmente insomma mette in atto tutta una macchinazione complicata che non sto a su cui non mi sto a dilongare alla fine della quale però insomma le sue macchinazioni volgono verso la tragedia perché sembra fino all'ultimo che che Claudio non voglia nominare come suo successore Nerone e tuttavia alla fine nonostante tutti sappiano che lei manovra tutti e sia una grande ipocrita alla fine riesce in extremis a ottenere il suo obiettivo e l'opera terminerà appunto con la nomina di Nerone al trono imperiale e l'unica figura anche qui moralmente diciamo così integra che è Ottone che è sempre fedele a Poppea eccetera finalmente viene ricompensata questa sua devozione con il fatto che Poppea diventi finalmente sua moglie quindi abbiamo questa anche qui tutta questa vicenda che si basa anche qui sulle passioni sull'amore sensuale perché alla fine sia Claudio che Ottone che Nerone stesso vengono in qualche modo sedotti tramite le come dire macchinazioni di Agrippina che pilota e inganna l'innocente Poppea questa è un po' la storia anche qui siamo in una dimensione simile quella precedente cioè una come dire presentazione di una società assolutamente amorale rappresentata in questo caso dalla figura di Agrippina di fatto studi insomma più storici anche dell'epoca hanno messo in relazione il fatto che il librettista Grimani che era un personaggio politico anche molto importante era un cardinale in qualche modo adombrasse appunto in questa storia una denuncia della società corrotta e del fatto che appunto delle ambizioni del papa Clemente XI con cui lui aveva spesso dei battibetti ed era una figura che non approvava quindi in qualche modo anche qui la figura del potere rappresentata da Agrippina che piega diciamo i suoi maneggi politici attraverso appunto intrighi e passioni in qualche modo rappresenta nella società dell'epoca per esempio una denuncia contro simili maneggi all'interno del clero romano in particolare del papato un'altra figura che anche viene messa in relazione con questa possibile denuncia oltre a quella di Clemente XI può essere anche quella di Luigi XIV che anche qui era un avversario politico del Grimani, del librettista che osteggiava soprattutto questa relazione con questo matrimonio morganatico che Luigi XIV aveva avuto con Madame de Mentemont quindi diciamo che l'opera nasce anche come riflessione di una certa società dell'epoca e il librettista in questo caso essendo un personaggio molto importante anche a livello politico in qualche modo trasferisce nella storia antica e nelle dinamiche della storia antica quello che è una rappresentazione della società dell'epoca e in particolare del potere dell'epoca, di un potere corrotto e amorale anche qui cast di cantanti di primissimo piano tra cui spiccava appunto la soprano Margherita Durastanti nella parte di Agrippina un'altra importante soprano nella parte di Poppea per quanto riguarda Nerone che torno a dire in quest'opera di Endel ha una parte veramente minore diciamo che è totalmente succube della madre si rivolge a lei per ogni cosa e va da lei ogni qualvolta la sorte sembra non ridergli si mette totalmente nelle mani della madre che è il motore, è la macchina di tutta la vicenda molti di questi cantanti sia Margherita Durastanti sia Diamante e Maria Scarabelli sia altri cantanti del cast vennero poi tutti ingaggiati da Endel nelle sue opere di Londra quindi sono cantanti che Endel si porterà poi con sé anche nel suo periodo londinese sentiamo appunto Nerone cantare siamo sempre nella voce di castrato infatti il cantante è lo stesso di prima lo stesso interprete qui era molto molto giovane che da subito proprio nelle primissime scena ci manifesta chiaramente la sua la sua come dire il suo carattere cioè quello di essere totalmente sottomesso alla madre nelle sue decisioni leggete il testo dell'area col saggio tuo consiglio il trono ascenderò men Cesare che figlio madre t'adorerò col saggio tuo consiglio il trono ascenderò un testo molto breve che dà subito la dimensione del rapporto diciamo di totale sudditanza da parte di Nerone nei confronti della madre sentiamo un pezzettino giusto per sentiamo un pezzettino giusto per sentiamo un pezzettino giusto per a presto insomma Grazie a tutti. 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 Eccetera, insomma, un assaggio. Come vedete, la musica di Endel ci rivela subito molto da vicino il carattere del personaggio, il testo è assolutamente esplicito. Lode a chi per regnare inganno ad opera, cioè questo è il fine giustifica i mezzi, assolutamente. E la musica, sentite, la musica è un'espressione, è un assolutamente… come la tromba, insomma c'è questo scambio di virtuosismo tra lo strumento e la voce, quindi vuol dire proprio che il personaggio è molto sicuro di sé, delle sue grandi capacità vocali, che testimonia appunto la sicurezza e la spregiudicatezza del personaggio di Agrippina, che è la musica evidente. La cosa curiosa è che queste arie che voi sentite, che ho inserito nelle slide, in realtà sembrano perfettamente calzanti, sono perfettamente calzanti con i personaggi per carattere musicale, ma vi stupirà sapere che la maggior parte di questi brani musicali, in realtà Endel li aveva già scritti prima di usarli per l'opera Agrippina, li aveva già utilizzati quasi tutti in altri lavori teatrali, oratori, cantate, sempre scritti in Italia negli anni precedenti. Quindi in realtà i brani originali che Endel scrisse appositamente per quest'opera sono pochissimi, ma la bravura del compositore fu proprio quella di adattare cose già scritte ai personaggi in questione. Non era una cosa così difficile perché, come vi ho detto anche l'altra volta, c'erano delle tipologie di personaggi ben definiti, delle tipologie di arie ben definiti, quindi era facile anche scambiarle, no? Seconda dell'opera musicalmente, cambiando ovviamente il testo. Però, ecco, questo ci può stupire, ma era una prassi molto comune, una prassi che usava tranquillamente anche Vivaldi. Vivaldi, siamo lì, siamo sempre nella città di Venezia, poco dopo arriva, insomma, quindi è tutto abbastanza collegato. Questi compositori si trovano tutti lì, nella stessa periodo, insomma, sostanzialmente. Quindi è interessante anche vedere le reciproche influenze. Sicuramente quest'opera risente molto dell'opera anche di Vivaldiana e dell'opera italiana, più ancora che il Giulio Cesare, che, diciamo, ha già un'evoluzione successiva. Andiamo avanti, no, scusate, faccio una ripartita qua, aiuto. Ecco, sentiamo ancora un'aria, sempre di quelle riciclate, perfettamente, perfettamente calzante alla figura di Poppea, che, come dire, questa è la prima aria di Poppea. Poppea è innamorata di Ottone, punto. Però, come vi dicevo, in una scena successiva addirittura lei dà appuntamento a tutti e tre, tutti e tre si nascondono dietro una porta, insomma, c'è una scena anche abbastanza divertente, eh, dell'opera, che non ho potuto caricarvi perché è lunga, c'è tutto il recitativo, insomma, è piuttosto, però la trovate sicuramente anche sul web se avete voglia di approfondire l'argomento. Sentiamo questa Poppea veramente il trionfo della sensualità e questo testo che vedete veramente è un inno all'amora, insomma, al sentimento dell'amora. Anche il testo è molto esplice. Anche il testo è molto esplice. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti